Le aziende in questo momento hanno il grossissimo problema del caldo che ancora persiste e mette in difficoltà veramente la produzione. Un'estate 2024 che sicuramente verrà ricordata per la quasi assenza di precipitazioni e per il lungo periodo con temperature prossime ai 40 gradi. Condizioni atmosferiche che hanno costretto i cantieri edili a rivedere l'organizzazione con conseguenti rallentamenti nei lavori. Nelle ore del pomeriggio è impossibile lavorare, la produttività praticamente si azzera, quindi non ha neanche senso mettere in pericolo i collaboratori. Se facciamo i lavori con una certa durabilità dobbiamo stare molto attenti a come li facciamo. Facendo velocemente e con condizioni meteo pessime come adesso sicuramente la durabilità non rimane. Intanto all'orizzonte per il settore e dire ci sono una serie di scadenze che portano il nome di pacchetto casa, riqualificazione energetica, patente appunti, incombenze che le imprese dovranno affrontare facendo però i conti con una cronica carenza di mano d'opera. Lo scorso anno a fronte di una richiesta di 6.490 lavoratori, 4.627 sono risultati difficili da reperire, di questi 47,6% per mancanza di candidati. Il lavoro c'è, abbiamo avuto il problema della grandine e le manutenzioni sono aumentate tantissimo, ma c'è molta richiesta anche sulla costruzione del nuovo, c'è bisogno di mano d'opera.